Il porto di Gioia Tauro si è rivelato essere non solo un crocevia per il traffico della droga, ma anche un importante scalo all'interno del quale si potrebbero svolgere traffici illeciti di qualsivoglia natura. Per questo motivo i controlli si stanno facendo sempre più accurati e soprattutto si collabora con le forze dell'ordine di altri paesi per sgominare traffici internazionali. Grazie ad una di queste collaborazioni, già a partire dal mese di settembre dello scorso anno, all'interno del porto di Gioia Tauro sono stati sottoposti ad accurati controlli 483 container imbarcati su 18 distinte navi cargo provenienti dai porti canadesi di Toronto, Montreal e Vancouver e destinati a raggiungere alcuni scali portuali in Libia, Marocco, Turchia e negli Emirati Arabi. Le attività investigative hanno consentito alla Guardia di Finanza, che ha operato insieme alla Polizia e all'Agenzia delle Dogane dei Molopoli, di sequestrare 251 veicoli di grossa cilindrata, semi nuovi, di cui alcuni con i dati identificativi contraffatti quasi alla perfezione e tutti di note e prestigiose marche automobilistiche, per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro, che erano stati rubati in Canada. Contestualmente sono stati sequestrati 7.650 dollari canadesi, suddivisi in banconote autentiche di vario taglio, rinvenute all'interno di una di queste auto.